Ben trovati, siamo ad Alimenti Fermatempo in compagnia di Giampaolo. Bentornato Giampaolo. Ben ritrovati tutti. Allora, con lei oggi parliamo di Redberry, questa bacca che abbiamo appunto voluto titolare, la bacca della giovinezza, dell'energia ad ogni età e aggiungo io anche della bellezza. Cosa dice? È così, è così. Lei sa che noi siamo in Facebook, siamo nei social, abbiamo contatto diretto con i nostri assistiti e lì ci danno, ci scambiamo anche frasi divertenti, gioiose, ironiche. Perché le nostre collaboratrici hanno voluto che noi specificassimo che il Redberry va utilizzato anche proprio come cura estetica, perché essendo un ringiovanente anche del derma, può essere un aiuto. Poi, naturalmente, ci sono i soliti spiritosi in Facebook che mi hanno mandato i messaggi dicendo, tocco, ma se lei usa il Redberry per la bellezza vuol dire che non funziona. Ma al di là della battuta, il Redberry è qualcosa, il Redberry selvaggio è qualcosa di straordinario. Ha due caratteristiche che lo distinguono da tutti gli altri frutti rossi, tutti gli altri frutti rossi. Intanto, io non sono l'imprenditore che parla bene di un prodotto perché ha i magazzini pieni e lo deve vendere. Io sono l'imprenditore, per quello che non sono ricco, perché si innamora di un prodotto, lo studia, verifica, vede che è una cosa eccezionale e corre il rischio. Lo voglio. I miei collaboratori mi dissero ai tempi, Giampaolo, il mercato è pieno di frutti rossi, Redberry, cranberries, mirtilli rossi, mirtilli blu, mirtilli gialli, verdi. Il mercato è pieno. Prodotti alimentari, preparati alimentari, integratori, marmellate, succhi. Ti metti in un mercato di colossi che distribuiscono questi prodotti e arrivi tu con il Redberry selvaggio del Quebec. Cosa pensi di fare? Penso di investire il mio tempo e il mio denaro per far conoscere alla gente una bacca che non ha uguali in natura. Anche perché, appunto, come ci ha detto, stiamo parlando di una bacca che proviene da un territorio specifico. Sì. Nord del Canada, un'area del Quebec che è un sogno, torbiere, ghiacciai perenni, terreni incontaminati dove non c'è niente, niente. Né ricchezza di sottosuolo, niente. Non c'è insediamenti produttivi, non ci sono aziende, non ci sono metalli, non c'è petrolio. Non si può arare il terreno perché, prima di tutto, il governo vieta l'aratura dei terreni perché c'è il rispetto per la terra e perché vogliono che questa terra continui a mantenere le sue proprietà straordinarie. Ma poi perché è difficilissimo, perché non sono vaste aree lavorabili. Sono piccoli territori, piccoli appezzamenti che comportano difficoltà nella raccolta, ma c'è un vantaggio, non devi fare niente. Lasci che la natura faccia il suo corso. Me ne sono innamorato molti anni fa, quando sono stato in Canada per presentare tecnologie per l'abbattimento, per la riduzione dell'intensità dei campi elettromagnetici, causa di effetti biologici molto sgradevoli. Lì, in un intervallo, chi mi accompagnava, che è di origine italiana, Enzo che saluto e che vive in Canada, mi ha portato in questi territori, era novembre, era il periodo della raccolta. Sono rimasto impressionato da questi terreni rossi di mirtili, di bacche, che vengono a galla per la raccolta, poi vengono portate a riva, rapidamente polverizzate e diventano l'estratto secco di redberry selvaggio. Leggo tutta la documentazione che mi viene sottoposta e che parla delle proprietà e delle caratteristiche organolettiche, delle proprietà di questa bacche e dico che non esiste al mondo una roba simile. In anni che faccio il tecnico erborista e il ricercatore, io non ho mai visto una bacca che contenga quello che contiene questo redberry. Quindi ho deciso di investire il mio tempo, il mio denaro, veramente tanto, tutto, per acquistarmi quei terreni e per garantirmi la proprietà di questo frutto che è rarissimo, se ne raccoglie pochissimo, consente una piccola produzione ma mirata su un pubblico super esigente, su un pubblico che non vuole essere preso in giro, su un pubblico in grado di capire che c'è una differenza fra una pesca, una mela, una banana, una pera appena colta e mangiata o un frutto che rimane per mesi nei frigoriferi, nelle navi, che viene lavorato non si sa come, che nella lavorazione, nella fretta della lavorazione per produrre milioni di confezioni non si sa come avvenga il trasferimento delle proprietà organolettiche di questo frutto nel preparato. Qui invece non c'è nessun tipo di coltivazione. Assolutamente zero, vietato dal governo canadese e dall'amministrazione del Quebec e dalla confraternita del Redberry selvaggio del Quebec, la Presidentessa è nostra amica, è vietato arare i terreni, è vietato fertilizzarli, è vietato dare i diserbanti, è vietato intervenire in alcun modo sull'evoluzione di questo frutto che deve essere 100% naturale. contiene l'impossibile e rappresenta il vero ringiovanente organico perché è ricchissimo di principi attivi, perché immediatamente dopo la raccolta, in pochissime ore, viene essiccato e polverizzato, in 72 ore da là arriva in Italia, in provincia di Verona, dove la nostra partner produttiva spettacolare azienda trasforma questa polvere in una compressa. E tutti i principi attivi vengono trasferiti? Oltre il 93%, dico oltre il 93% perché in genere nei preparati alimentari, se va dentro il 10% dei principi attivi di un frutto è già tanto. Qui abbiamo quasi la totalità. Io mangio una compressa del nostro preparato alimentare, mangio un etto di quel frutto che contiene minerali di ogni tipo, benefici, vitamine, tantissime vitamine, in piccolissima quantità ma con grandissima biodisponibilità e in una gamma che sembra studiata dal più grande scienziato, di fatti è studiata dal più grande scienziato che si chiama Creatore, che ha voluto che in questa bacca ci fossero fibre, carboidrati, minerali, vitamine e antiossidanti nel giusto mix per entrare nell'organismo e ripulirlo da quello stress ossidativo che arrugginisce ogni nostra cellula cerebrale e del corpo. Gian Paolo, ci sono degli studi scientifici che ne confermano la validità di questa bacca? Tra studi scientifici e studi osservazionali importantissimi, perché sa come diceva mia mamma, tra la teoria e la pratica, cioè va al più la pratica della grammatica, diceva mamma, e aveva ragione contrastando con mio padre che diceva, Beppina, no, vale di più la scienza che l'osservazione empirica. E mia madre diceva, sì ma se la teoria mi dice mille cose, poi io uso quel prodotto e non funziona, quello è quel che vale. Io che sono il figlio li ho messi insieme tutti e due. La scienza deve dire una cosa, dirmi perché accade, come accade e deve darmi ripetibilità. La pratica mi deve dire, caspita l'ho usato e funziona. Questa bacca ha 40.000 studi tra scientifici e osservazionali, che dimostrano che davanti a uno stress ossidativo che sporca la membrana cellulare, la soffoca, la invecchia, non consente alla cellula di produrre energia. Entra questo redberry selvaggio, ripulisce la membrana cellulare e consente ai mitocondri di produrre energia. Primo effetto, energia immediata. Non perché prendo dopanti o eccitanti, ma perché viene ripulito il mio organismo e viene consentito, si consente alle mie cellule di produrre energia vitale. Due, riapre il microcircolo. Vuol dire risvegliare il cervello. Gran parte del nostro cervello non è irrorato da arterie grosse come un palo della luce. È irrorato da microcapillari, che vanno a irrorare parte del cervello, che sono essenziali per la nostra vita. La vista, l'udito, la deambulazione, il tatto, la nostra capacità cognitiva e mnemonica di ricordare le cose, di capire mentre le persone parlano. Questo dipende da aree cerebrali irrorate da microcapillari. Se si ostruiscono, io ho questa perdita di capacità cognitive, quel famoso invecchiamento cerebrale, quello che diventa poi Alzheimer. Quindi è molto efficace anche per tutte le demenze, che sono tantissime, alle quali purtroppo si assiste spesso, grazie anche all'invecchiamento della popolazione. Allora, quindi, dicevamo, gli studi che confermano questa efficacia sono più di 40.000. Sono tantissimi e in ogni settore ci sono migliaia di studi. Cuore, arterie, vene, circolazione sanguigna. Studi che dimostrano come il Redberry sia un ringiovanente dei tessuti cardiaci. Quando si va dal medico, non sempre ti dice, il cuore è disastrato. No, ti può anche dire che questo è un cuore affaticato. Ho 50 anni, ho 40 anni, ho 60 anni, un cuore affaticato. Sì, è un cuore affaticato, le arterie indurite. Sull'apparato cardiocircolatorio è un fenomeno, ma su tutti gli altri apparati è meraviglioso. Benissimo. Allora, adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Quando rientriamo ci spiegherà che differenza c'è tra questo Redberry e gli altri mirtili rossi che possiamo trovare sul mercato. Assolutamente. Erbe medicali presenta Usa Redberry, il ringiovanente che fa stare bene. Immediata energia fisica e mentale. Usa Redberry, il Redberry palustre selvaggio del Quebec, l'originale di Giampaolo Tocco. Il vostro rimedio efficace e immediato contro la stanchezza e la spossatezza. Il vostro ringiovanente che fortifica il corpo e sveglia la mente. Disintossicante, depurativo, per ritrovare i corretti valori di colesterolo e glicemia. Il vero ringiovanente della pelle e dei tessuti muscolari. Il Redberry palustre selvaggio del Quebec, che compone il preparato alimentare Usa Redberry, rivitalizza l'intero organismo, tonifica il cuore, le vene e le arterie, per riportare a valori normali la pressione. Il Redberry palustre, riapre i capillari, per ridare vita al cervello e per proteggere la retina, migliorando la vista. Il Redberry palustre selvaggio del Quebec è il potentissimo antiaderente batterico, che protegge il tratto gastrointestinale e urogenitale dalle infezioni batteriche, sconfiggendo le cistiti e le altre possibili infezioni del tratto urinario. L'azione del cranberry selvatico è inoltre un'ottima protezione e prevenzione contro le patologie che colpiscono la prostata. Solo nei terreni selvaggi e incontaminati del nord del Canada nasce spontaneamente il mitico Redberry palustre selvaggio del Quebec, che noi trasformiamo in uno spettacolare preparato alimentare che da oltre 27 anni entra nelle vostre case, portando energia, salute e vero benessere fisico e mentale. Chiamo subito per verificare la disponibilità dei prodotti e prenotare l'offerta speciale di oggi. Una confezione di USA Redberry da 30 compresse a base di Redberry palustre selvaggio del Quebec a soli 19 euro più spese di spedizione, invece dei 29 euro del listino. E oggi puoi richiedere tre confezioni di USA Redberry da 30 compresse ciascuna in offerta speciale a soli 49 euro più spese di spedizione, invece degli 87 euro del listino. Ma non perdere l'offerta bonus salute USA Redberry, che consente di acquistare 6 confezioni di USA Redberry da 30 compresse ciascuna, a soli 89 euro invece dei 174 del listino. Chiama subito il numero in sovraimpressione e approfitta delle offerte. USA Redberry tutti i giorni, l'antiossidante selvatico che ringiovanisce la mente e il corpo e che riporta l'energia della giovinezza rimettendo in moto l'intero organismo, a qualsiasi età. USA Redberry funziona! Scoperto nel 2009 da un premio Nobel la causa del nostro invecchiamento precoce, di tutte le malattie, della stanchezza e dei dolori, scoperto anche come difenderci con sostanze naturali. Ve ne parlo tutti i giorni sul canale 168. Vi aspetto, non mancate! Sulla eutanasia. Bene, Gianpaolo, siamo rientrati in studio. Durante la pausa lei mi racconta sempre delle cose molto interessanti, ma ritorniamo al nostro Redberry. Ma molto volentieri. Perché, come lei sa, di Mirtillo Rosso ormai ce n'è molto, no? Pieno. Sul mercato, quindi se ne trova un po' di tutti i generi. Volevo capire quali erano le differenze rispetto a questo Redberry. Allora, partiamo da questo presupposto. Qualche anno fa, Altro Consumo ha voluto esaminare i prodotti presenti sul mercato perché c'era una forte diatriba. Ma il cranberry, i mirtilli rossi, il Redberry funzionano come ringiovanenti, funzionano come aderenti batterici contro la cistite o no? Perché moltissime persone lamentavano che, avendo acquistato dei prodotti che, come dico io, o è la nostra confezione o è una presa in giro. Se è una presa in giro e non funziona, stimoliamo un'organizzazione a capire perché questi prodotti commerciali non funzionano. Altro Consumo li ha esaminati, ma tanti. E quasi tutti hanno dimostrato o di non avere principio attivo sufficiente o di avere principio attivo di scarsa qualità. E questo è il motivo per il quale i mirtilli rossi, i cranberries industriali non funzionavano. Non lo dico io, lo ha detto Altro Consumo. Questi prodotti non funzionano perché non hanno principio attivo o hanno un principio attivo utilizzato male. La regola per avere un capolavoro in un preparato alimentare è la stessa regola che serve e che guida la nostra produzione di red berry e la produzione di un qualsiasi altro prodotto alimentare. Ha la qualità di quel frutto. Deve essere un frutto di grande qualità, deve nascere in terreni ricchi di sostanze da trasferire al frutto. Perché se li tiro su in una discarica, quei frutti si possono anche chiamare cranberries o red berries, ma sono rifiuti tossici, hanno assorbito dalla terra schifezze. Quindi, uno, grande qualità della pianta. Due, la qualità del terreno in cui vive, in cui nasce e matura questa pianta. I tempi di trasformazione. Una mela mangiata appena colta vale mille volte una mela, non voglio denunce, ma di un supermercato che chissà da dove arriva, non dico quale, di alcuni supermercati, dai quali arrivano le mele dopo due mesi che sono state nei frigoriferi o nelle navi a trasportare. Che valore nutrizionale può avere? Allora, l'immediatezza della lavorazione di quel frutto, la rapidità e la sicurezza nel trasporto. Io non posso trasportare il mio red berry selvatico con le navi. Sta in giro mesi e va nelle stive in cui c'è di tutto, compresi i topi, scarafaggi, stracci, petrolio, di tutto. Quindi trasporto via aereo. Eh ma costa, eh ma tu offri qualità, le persone la pagano, questa qualità tu devi offrirgliela. Perché quindi la tempistica per la trasformazione è molto importante. Essenziale. Raccolgo dall'albero, raccolgo da terra e in 12 ore io devo avere trasformato e avere già la polvere essiccata pronta per essere lavorata. E il trasporto non deve durare più di 70-72 ore. E la pianta deve essere organoletticamente straordinaria. Ecco perché si arriva ad un red berry selvaggio che non ha paragoni sul mercato. Non ha paragoni sul mercato. Ringiovanisce il cuore, l'apparato respiratorio, l'apparato cardiovascolare, il fegato, i reni, lo stomaco, l'intestino. Protegge l'apparato urogenitale dalle infezioni batteriche come le scherichia coli. E' un antiossidante straordinario che consente ai muscoli di ricevere ossigeno e nutrienti. Quindi di rimanere tonici. E' il potente ringiovanente che dà energia. Allora Gianpaolo, lei sa che i nostri telespettatori sono molto attenti. Diciamo sono anche selezionati. Quindi sono sempre molto informati. E una delle domande che ricorre più spesso è quella di riuscire a capire esattamente, chiedere a lei appunto che cosa esattamente contiene questa compressa, oltre al mirtillo. Allora, oltre all'estratto di mirtillo, questa compressa contiene praticamente null'altro. Tanto che in molti altri prodotti lei vede che aggiungono altre sostanze che vadano ad integrare un po' per dare un po' di significato al loro prodotto. Qui c'è in una compressa il 16% di principio attivo. E questo 16%, sto parlando del 16% di un principio attivo che ha il 92% delle proprietà del frutto. Quindi è un'esagerazione. Qualcuno mi ha fatto un'osservazione e gli edulcoranti fanno male. No, gli edulcoranti non fanno male. Fa male tutto. Come dice Paracelso, il veleno è ovunque. È la quantità. E la tipologia. Noi utilizziamo, Barbara, io la ringrazio per questa domanda. Noi utilizziamo la neoesperidina. È un edulcorante che deriva dalla lavorazione degli agrumi. E sa perché non la usano molto spesso? Perché è costosissima. Noi utilizziamo... Ma diciamo, ma perché usate un edulcorante? Per due motivi. Uno, per ridurre l'asprezza, l'aspro tipico della bacca del carabello. Ma principalmente per consentire la compattatura, la compressione, per poter realizzare la compressa. Stiamo parlando di milligrammi. Davanti a gente che ha mangiato per anni cucchiaiate di zuccheri finti che fanno più male degli zuccheri raffinati. Infatti era anche una domanda, Gian Paolo, mirata a coloro e lo sappiamo tantissimi che soffrono di diabete. Di tutto possono fare a meno, tranne che delle cure mediche, ma non del cranberry. Il cranberry è straordinario anche per questo. Lei pensi al primo danno del diabete? Il primo danno del diabete? La compromissione della circolazione sanguigna. Gli zuccheri nel sangue, oltre a glassare gli organi e quindi bisogna ripulirli in qualche modo, compromettono sia la qualità del sangue sia la qualità delle pareti delle arterie, con l'occlusione dei capillari, tanto che abbiamo i piedi diabetici. Perché? Perché non c'è circolazione sanguigna. Quindi, non essendoci ricambio, c'è una facilità alla sovrapposizione, per esempio, di gomme batteriche in queste ferite che si formano. Il redberry, aiutando il microcircolo e ridando tonicità e elasticità alle vene e alle arterie, è un aiuto straordinario per i diabetici. E quei milligrammi di carboidrati della bacca sono solo preziosi per l'organismo. E quei milligrammi di neoresperidina il nostro organismo manco li sente. E se li dovesse sentire, stiamo parlando di milligrammi, di gente che si mangia poi i cucchiai di roba dolce, no? Sono derivati dalla lavorazione degli agrumi. Il redberry selvaggio nostro è un capolavoro. Gian Paolo, mancano pochi minuti. Le chiedo di fare un elenco, diciamo, dei benefici che il redberry ha sulla nostra salute. Ringiovanisce il cervello, lo rimette in funzione, riapri i capillari, toglie quell'ossidazione che danneggia le nostre capacità mentali. Ringiovanisce il cuore, le arterie e le vene, riapri i capillari e quindi aiuta la retina. Le retinopatie non sono altro che stress ossidativo della retina e occlusione dei capillari. Questi due problemi vengono solti dal redberry. Ringiovanisce e ripulisce il tratto gastrointestinale, ci libera dalla cistite e dalla prostetite di tipo infettivo, riporta immediata energia perché ripulendo le cellule consente alle cellule di produrre energia e ripulendo le cellule dall'ossidazione rallenta i processi di invecchiamento, ridando tono muscolare, ridando tono alle articolazioni. Insomma, riaprendo il microcircolo, io riporto la vita in tutto l'organismo. Benissimo, un'ultimissima domanda è quantità da assumere e se ci sono degli orari in cui è meglio prendere questa pasticca. In genere uno dice, ostrega oggi mi sono dimenticato la pastiglia però sono stanco, quasi quasi me ne prendo una. Ecco, quello è l'orario migliore. Ma in genere se voglio fare una bella prevenzione e tenere il corpo pulito, io direi che fino a 40 anni una compressa al giorno è sufficiente. Oltre i 40 anni posso arrivare alle due compresse, una a metà pomeriggio e una alla metà mattinata e un'altra compressa succhiata a metà pomeriggio. Io ho ripulito il mio organismo dalla maggior parte dei radicali liberi che sono la causa di quasi tutti i nostri problemi. Benissimo, non ha controindicazioni? Nessuna controindicazione, nessun effetto collaterale se non questo senso di energia e di benessere e di ritrovata attività cerebrale. Ecco, quando è che si sente? È quasi immediato? Ah, guardi, il Redberry non scherza, eh. Il primo giorno, nel sito lo diciamo, benefici ottenuti e immediatamente percepiti il primo giorno. L'energia la sento il primo giorno che lo utilizzo, che poi va ad aumentare nel tempo con il miglioramento della vista, con il miglioramento dell'udito, con l'ammiglioramento delle parti terminali, per esempio delle estremità, piedi e mani che in genere possono avere formicolio o torpore. È un capolavoro che nel tempo dà ogni giorno sempre di più benefici per un benessere totale, una salute totale. Benissimo. Grazie Gian Paolo, l'aspettiamo presto. Grazie a noi, balbole, grazie a tutti. Grazie a tutti.